Il futuro della medicina passa attraverso la trasmissione dei dati, la consultazione a distanza dei risultati degli esami. Questo serve a superare ostacoli naturali, situazioni di difficoltà, ma soprattutto a migliorare il luogo migliore dove si può essere curati e dove si può guarire, che è l'abitazione, la casa. È la prima esperienza di centrale regionale di telemedicina nel panorama nazionale, si chiama Core Health e nasce in Puglia. Il progetto sarà a supporto degli operatori delle reti di cura e soprattutto dei pazienti che potranno soffrire di un servizio altamente innovativo. La Regione Puglia, applicando le disposizioni del decreto rilancio, ha istituito la centrale presso l'Agenzia per la Salute e il Sociale. Il Policlinico di Bari e il Giovanni XXIII si occuperanno sia della componente sanitaria necessaria all'erogazione delle prestazioni, sia per l'ospitalità logistica della componente operativa e tecnologica. I pazienti dunque potranno essere curati da casa, accompagnati da un'autogestione della propria malattia cronica, riducendo così le ospedalizzazioni e le visite negli ambulatori. La centrale metterà a disposizione del team di cura, formato da medici e infermieri, una piattaforma di back office per la gestione telematica dei pazienti. Ci saranno percorsi di monitoraggio personalizzati, servizi digitalizzati, di presa in carico e kit di dispositivi medici in base all'esigenza atti alla rilevazione dei parametri. Un'app sul cellulare poi permette alla paziente di restare in contatto con il proprio medico, di consultare l'agenda delle televisite e di consultare il piano terapeutico. La telemedicina non è altro che uno strumento in mano al medico, è un'opportunità per il paziente per migliorare la qualità dell'assistenza. Con questo progetto da tanti nuclei sperimentali che ormai da anni si stanno sperimentando sul nostro territorio passiamo ad una fase attuativa in cui la telemedicina diventa realtà e diventerà progressivamente quello strumento che davvero a 360 gradi porterà l'assistenza a casa del paziente anche quando un operatore sanitario non potrà recarsi a casa dello stesso. Sì si potrà gestire il proprio percorso clinico senza spostarsi, senza aggiungere il disagio di muoversi, senza aggiungere anche il disagio di frequentare dei luoghi sanitari che ove non sono pericolosi, perché i luoghi sanitari e gli ospedali rimangono in qualche modo pericolosi, rimangono in qualche modo psicoemotivamente impegnativi. Casa propria è la propria comfort zone. È un'attività che si aggiunge alle attività tradizionali di reparto, ambulatorio, sala operatoria, reparto controllo cartelle cliniche e contro room, quindi un pezzo in più.